Juve-Bologna 1-1 Vlaovic-Arnatovic La Juve fa fatica a creare gioco con due occasioni del Bologna, due occasioni per Vlaovic, con Dybala che sfiora il palo al quattordicesimo minuto con un tiro di Danilo. Non inquadra la porta senza recupero del primo tempo di 0-0. Seconda frazione di gioco col Bologna che spreca con Andanovic, con Morada di testa che non segna, sbloccando Arnatovic al cinquantaduesimo il gol e porta il Bologna in vantaggio sull'1-0. Con De Ciglio che tira e il portiere manda sul calcio d'angolo, con Danilo che prende un palo, con De Litt che le spinge col portiere che fa fatica a parare di pugno. Con Quadrada che si divora il pareggio, con il secondo legno, presto da Quadrado con Vlaovic, che calcia una punizione alle stelle. Con otto minuti di recupero, pareggiando la Juve con Vlaovic al novantaquattresimo, con punteggio di un anno, finendo la partita. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e azionate la campanella. Ciao!